Musica 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 Andrea Cassani com'è andata? Sta bene, un bel percorso, ho tantissime persone anche quest'anno, il percorso e il tracciato era un pochino più difficile l'anno scorso, mi ha migliorato leggermente il tempo quindi tutto bene. Ma ha migliorato anche il sindaco il tempo? Abbiamo migliorato sì, il tempo di qualche trentina di secondi però insomma comunque è stato un miglioramento, l'anno prossimo per un tracciato nuovo con tante persone ancora. Seconda edizione Gallagonten, successo, 200 persone circa, nuovo percorso, grande soddisfazione partecipanti su noi percorsi, abbiamo distinto un po' di gadget e direi ottimo anche quest'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.